Ci troviamo in compagnia del primo cittadino di Campli per festeggiare il sesto posto alla trasmissione RAI, il Borgo dei Borghi. Campli selezionato per quanto riguarda l'Abruzzo, unico centro tra le top 20 nazionali. Sì, un grandissimo risultato che abbiamo raggiunto nell'edizione di quest'anno 2020-2021, dove ha vinto Tropea. È una competizione veramente di alto livello, dove ci siamo confrontati con tantissimi luoghi e borghi bellissimi e abbiamo fatto onore al nostro meraviglioso Abruzzo con questo sesto posto, che è un risultato per noi straordinario, considerando che Campli ha tante bellezze, tra cui ci tengo a ricordare la Scala Santa, che nel servizio RAI non è stato comunque ripreso e che invece è il nostro fiore all'occhiello, insieme a tante altre bellezze del territorio, di una provincia, quella di Teramo, che merita davvero un'attenzione diversa rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni, una regione, l'Abruzzo, che si sta facendo valere anche a livello nazionale. Abbiamo messo dietro l'Umbria, la Toscana, la Puglia, il Lazio, insomma tantissime mete turistiche che sono arrivate dietro a Campli e questo sicuramente ci fa ben sperare anche per la stagione estiva che deve arrivare, una stagione particolare dove comunque abbiamo ancora da gestire la situazione del Covid, ma come lo scorso anno abbiamo avuto un aumento del flusso turistico dell'83%, proprio perché abbiamo comunque sfruttato questo momento per il turismo di prossimità dei piccoli borghi, contiamo anche quest'anno di aumentare i nostri numeri e questa vetrina RAI, dove la domenica di Pasqua ci sono stati oltre 2 milioni di telespettatori, sicuramente ci darà una spinta importante.